Eccoci di nuovo in diretta, parliamo di lipedema, stavamo parlando appunto di operazione chirurgica e volevo fare una domanda, insomma abbiamo qui la dottoressa Mantovani, fisioterapista. Cosa c'entra la fisioterapia e la problematica del lipedema? Allora il fisioterapista fa parte di quella che è l'equip che deve ruotare intorno al paziente. Perché? Perché spesso i pazienti con lipedema hanno anche una situazione di edema dovuto proprio a questa congestione del tessuto. Non tutti, però nel caso in cui il paziente abbia questa problematica possono essere fatte delle terapie conservative che possono avere dei risultati soprattutto sui sintomi del dolore e a volte della funzionalità dipende sempre dallo stadio. Il fisioterapista deve essere un fisioterapista specializzato nei trattamenti degli edemi quindi deve saper fare l'infodrenaggio e bendaggio. Questo è molto importante per il paziente. Deve essere all'interno dell'equip sempre in contatto con gli altri medici che possono essere varie figure e quindi ha questo ruolo nella parte del trattamento dell'eventuale edema. Inoltre abbiamo visto che è una patologia che può portare a delle compromissioni anche funzionali da deambulazione piuttosto che dolori articolari e quindi può intervenire anche in questi termini con il paziente. Quindi aiuta da sollievo? Esatto, sì. E la fisioterapia è consigliata dopo l'operazione? Dipende, anche prima, sempre dopo l'intervento assolutamente perché proprio c'è a causa dell'intervento questo gonfiore, questo edema, questi ematomi quindi vanno drenati ma può essere utile anche prima. Ci sono anche dei trattamenti conservativi che non vengono necessariamente fatti in previsione dell'intervento ma sono dei trattamenti per i pazienti che non vogliono affrontare l'intervento che non hanno ancora la necessità di affrontarlo. Dottoressa Mantovani, prima parlavamo, prima di iniziare e mi diceva che anche lei... Anch'io sono una paziente. Anche lei è una paziente. Infatti le ho chiesto, ma poi ha preso la specializzazione per studiare meglio il caso? Come l'ha scoperto lei in realtà? Io l'ho scoperto, avevo questo sospetto da un po' perché comunque fin da quando ho iniziato gli studi di fisioterapia mi sono sempre interessata a questo argomento. La diagnosi vera e propria l'ho avuta due anni fa quindi io adesso ho quasi 39 anni la diagnosi l'ho avuta due anni fa in realtà la patologia, da quel che mi ricordo io ho cominciato a notarla intorno ai 12 anni quindi anni anch'io di diete, di attività fisica io ho sempre avuto una vita sana tutto sommato ho sempre fatto attività fisica eppure qualcosa non cambiava e quindi poi quando ho approfondito l'argomento in termini lavorativi mi sono tra virgolette autodiagnosticata per poi invece farmi diagnosticare domenica. Quindi anche lei si è imbattuta in professionisti del settore che non hanno captato subito il problema? Purtroppo sì, purtroppo sì.